Dopo l'intervento dell'audito potranno prendere la parola in ordine di prenotazione i senatori e i deputati per porre quesiti. Prego pertanto il prefetto Valenti di svolgere il suo intervento introduttivo ricordando allo stesso prefetto che in qualunque momento quando reputa opportuno chiedere la segretazione di quanto sta per dire noi provvederemo in tal senso. La ringrazio dottor Valenti e le do la parola. Grazie Presidente, rivolgo un saluto a tutti i membri della Commissione e inizio subito con illustrare quelle che sono al momento le problematiche che riguardano in particolare il porto di Trieste. Il porto di Trieste è assunto alle cronache più recenti per il fervore, per la crescita dei suoi traffici e per la forte attrattività che ha avuto nei confronti anche di nazioni straniere. Da ultimo la Germania e il porto di Hamburgo ha acquisito una parte del molo ottavo che è lo scalo terminal più importante e insieme ad esso, insieme alla Germania, anche l'Ungheria ha in atto degli importanti investimenti in ambito portuale. Tuttavia il porto di Trieste, insieme alla crescita dei volumi e dei traffici, rappresenta anche un obiettivo, un interesse anche per le attività criminali. In questo senso c'è un precedente specifico che lo riguarda e che risale al dicembre del 2017. Allorché una delle società operanti in ambito portuale, la Depositi Costieri di Trieste, che si occupa di deposito e stoccaggio di carburanti, fu raggiunta da una interdittiva antimafia che sostanzialmente individuava nella fase di passaggio di quote proprietarie della società per azioni a un'altra società, la LIFE, che era interessata all'acquisizione della società, ecco, in quell'occasione, avendo avviato la Prefettura una dovuta istruttoria in merito, rilevò la presenza nella compagine societaria della LIFE di appartenenti alla camorra napoletana, in particolare del clan Smimmo, a seguito della quale la collega che mi ha preceduto nell'incarico ritenne di adottare appunto una interdittiva. Questa interdittiva fu adottata esattamente il 29 di dicembre del 2017 e il giorno seguente, il 30, la proprietà della società depositò in tribunale i libri per il fallimento, richiedendo il fallimento della società. Iniziò in quel momento una fase delicata che vide e che ha visto per circa un anno e mezzo la presenza di due soggetti che hanno, in qualche modo, sono stati ai vertici, diciamo, della società, che hanno gestito la società. Da una parte i tre commissari nominati dal Prefetto in forza dell'articolo 32 della legge 114-2014, quindi esenzia della legge che pone in capo al Prefetto la possibilità di avvalersi dell'autorità nazionale anticorruzione, è garantire in questo modo il perseguimento di alcuni obiettivi. Da una parte naturalmente la messa in legalità dell'azienda, dall'altra il mantenimento dei posti di lavoro, anche in ragione dei contratti pubblici, diciamo, che la stessa società aveva, di cui era titolare. Dall'altra la figura del curatore fallimentare, nominato dal giudice fallimentare, che ovviamente aveva invece interessi e obiettivi diversi, cioè che aveva come mission quella di liquidare i creditori e di vendere sostanzialmente l'azienda. L'azienda su cui mi soffermo adesso, un po' per delinearne l'attività, è un'azienda strategica che ha una sua, per il momento possiamo proseguire, che ha una sua, come dire, importante fetta di mercato, è un'azienda che si occupa appunto di depositi e stoccaggio di carburanti, che quindi realizza anche dei profitti e che è stata in passato proprietà anche per il 50% di una partecipata di Eni, quindi diciamo c'era una quota pubblica. L'altro 50% era della famiglia Napp, Franco Napp, un imprenditore noto a Trieste, perché è titolare anche di altri incarichi, come nel porto, il presidente del Trieste Terminal Passeggeri. E quindi la società Ecofuel, che era partecipata da Eni, quindi società pubblica, nel 2015, il 20 novembre del 2015, aveva ceduto il 50% del valore della società, quindi il 50% delle quote, a Napp per il valore dichiarato di 400.000 euro. La società Depositi Costieri, quindi si è trovata in questa situazione, dopo la nomina del curatore e la nomina dei tre commissari prefettizi, di una gestione diciamo abbastanza anomala, durante la quale si sono anche manifestate delle situazioni di difficili rapporti tra il curatore da una parte e i tre commissari. Devo dire che su questo forse sarebbe auspicabile anche un intervento di tipo normativo, cioè volto a chiarire nei casi in cui c'è questa situazione bicefala, dove da una parte c'è un interesse di tipo giudiziario, dall'altra invece un interesse di tipo pubblicistico e in particolare antimafia. Ecco, che venissero chiarite fino a che punto, diciamo, come i due rapporti, i due soggetti interagiscono, quali sono i poteri reciproci, posto che in questo anno e mezzo di cogestione si è manifestata una situazione di difficoltà di rapporti, tant'è che i commissari poi a un certo punto diciamo si sono trovati anche un po' nell'impossibilità di svolgere la loro funzione, essendo in qualche modo prevalente l'attività che ha a matrice giudiziaria e quindi rivolta poi dopo alla vendita dei beni. Una società che nel frattempo, ecco questa è un'altra nota interessante, aveva accumulato un debito con l'Agenzia delle Dogane di oltre 30 milioni di euro e quindi con un passivo importante. Ecco, da questo momento chiederei che la... Grazie. 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 sapere. Nei prossimi anni si ritiene che i cosiddetti porti ascellari, quindi Genova e Trieste, possano nuovamente ottenere incremento nei traffici che dovranno gestire a seguito non soltanto del raddoppio del canale di Suez, ma della scelta che è stata fatta da operatori economici internazionali di puntare sulla via della seta fluviale e terrestre. Lei ha fatto riferimento per esempio a partecipazioni da parte del porto di Hamburgo, ma anche di società ingheresi, nella gestione di attività di banchina, di attività portuali, perché si prevede che si debba costruire ancor più una rete che sia funzionale ad interessi di natura anche non semplicemente italiana. E però, e qua vado in segreta però... Grazie. 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 formalmente in questo momento le richieste di accesso agli atti da parte di una serie di aziende, ma ovviamente su questo non faccio nessuna attività perché attendo che queste poi formalizzano realmente l'offerta, quindi ritengo di presumere al di là di contatti formali che non ci sono stati, però questo mi lascia pensare che sicuramente la curatela si avvarrà di questa opportunità, così come l'autorità portuale che ho sentito per le vie brevi mi ha confermato la piena collaborazione. Ho capito bene, la sua preoccupazione è che attraverso la fissazione di un prezzo sproporzionato rispetto al mercato dell'azienda da rilevare possano entrare con pagini non trasparenti, anzi legati alla criminalità organizzata, mi sembra che questo sia il problema. La domanda allora è questa, visto che ha riferito che la concessione scade fra tre anni e che la valutazione fatta dal perito del tribunale ha previsto una vita dell'azienda di almeno sedici anni, lei ha avuto modo di confrontarsi col curatore o col giudice delegato su questa circostanza? No, no, senatore, non ho avuto questa, non mi sono posto, devo dire, questa esigenza, sono in attesa di vedere cosa poi realmente accadrà. Senatore Mirabelli. Sì, grazie Presidente, la ringrazio signor Prefetto, mi pare che abbiamo aperto un focus e un faro su una vicenda che va seguita nei prossimi mesi per capire, io vorrei solo sottolineare l'importanza della scelta fatta dalla Prefettura di dare la disponibilità a fare una verifica prima delle composizioni, prima dell'attribuzione e delle aggiudicazioni delle composizioni societarie, non è una cosa scontata, è una cosa utile. Io però approfitterei della presenza del Prefetto di Trieste per chiedergli se è in grado di darci un minimo di spaccato rispetto alla situazione attuale a Trieste, rispetto a una serie di fenomeni che legati al Covid stiamo affrontando e stiamo monitorando, penso in particolare al fenomeno dell'usura, penso in particolare al fenomeno della capacità delle mafie camorra, il Veneto molto camorra di proporsi come sia finanziatori sia venditori di servizi alle aziende, vorrei capire se ci sono diverse inchieste venete che su questo dicono chiaramente che c'è un radicamento di alcune realtà e che questo tema del dare servizio alle imprese è un tema serio e preoccupante anche perché c'è la disponibilità di molte imprese, volevo capire qual è la situazione a Trieste in un ambito economicamente così importante anche perché c'è il porto. Grazie. Grazie Senato Mirabelli, prego Prefetto. Grazie Presidente, rispondo anche volentieri a questa domanda riferendo che così come richiesto dal Ministro e dal Ministero è stato attivato a Trieste sin dal mese di aprile un tavolo interistituzionale che vede insieme le categorie produttive, le associazioni sindacali, la Camera di Commercio, la Banca d'Italia, l'ABI, la Prefettura ovviamente, la Regione e il Comune di Trieste per monitorare e seguire con attenzione l'evoluzione dei fenomeni potenzialmente criminali connessi all'emergenza del Covid, cioè all'impoverimento delle imprese e delle famiglie. Su questo fronte i dati rassegnati ancora di recente sia dalla Camera di Commercio e dalle associazioni datoriali così come dagli altri soggetti, in particolare dalle organizzazioni sindacali che da questo punto di vista forniscono ovviamente anche un interessante spaccato su quello che è l'andamento dell'economia, devo riferire che non ci sono segnali di particolare allarme, anzi probabilmente con un andamento di rimbalzo, durante il periodo estivo si è anche registrata una ripresa sensibile delle attività più importanti a Trieste, mi riferisco al turismo sicuramente che ha segnato dei numeri importanti, così come anche lo stesso commercio non ha poi tutto sommato avuto una flessione significativa. Noi siamo molto attenti ovviamente in particolare, abbiamo focalizzato la nostra attenzione sulla grande distribuzione che è uno di quei segmenti che è appetibile storicamente ad alcune organizzazioni criminali e alle catene alberghiere, ai luoghi di ristoranti, alberghi importanti che a Trieste sono anche numerosi e ripeto però al momento non abbiamo segnali di particolare preoccupazione, l'economia locale triestina sta andando abbastanza bene, evidentemente saranno invece decisivi e importanti i prossimi mesi, certamente mesi invernali nei quali da una parte c'è una flessione fisiologica del turismo e dall'altra anche la situazione attuale che lascia preludere un'ulteriore contrazione di consumi e di movimento di persone. Per cui continueremo a lavorare su questo insieme in particolare alla Guardia di Finanza che devo dire a Trieste così come altrove è molto presente, attenta e rappresenta una garanzia per la piena efficienza del sistema economico e produttivo. Grazie Prefetto. Senatore Grasso. Io ringrazio il Prefetto per questo spaccato che ci ha fornito. Volevo capire bene le sue preoccupazioni rispetto a una differenza, mi passo di capire, tra il valore della società e il prezzo troppo alto. Io mi preoccuperei molto di più se il prezzo fosse stato irrisorio come una svendita della società. Non comprendo perché l'aumento del valore come base d'asta possa determinare delle perplessità e capire cosa. È un modo per riciclare il danaro. Cioè solo questa ipotesi potrebbe giustificare un interesse della criminalità organizzata. Cioè che possa essere questo un modo per appunto riciclare il danaro. Ma dovrebbe essere d'accordo col curatore in questo caso. E poi ogni curatore, almeno secondo certe procedure fallimentari, fa una perizia prima di una vendita. Ci sarà un perito che avrà valutato il valore della società. Lei ha acquisito l'eventuale perizia su cui il curatore ha fondato la sua base d'asta e comunque non ci sono ben immobili strutture o altro che possano avere un valore oltre quello intrinseco della società e quindi dell'azionariato, cosa è una società per azioni, quindi l'azionariato sociale, quindi il valore delle azioni. Non ci sono beni immobili, non ci sono strutture, non ci sono impianti, non ci sono organizzazioni che possano giustificare questo prezzo. Poi la cosa che più mi ha invece così restato perplessità sono i 30 milioni, se non ho capito male, di debiti nei confronti delle dogane. E questi 30 milioni vanno in fumo? E come questa società ha potuto avere un debito così alto, arrivare a 30 milioni senza che nessuno avesse potuto fare una procedura per recuperare questo credito da parte delle dogane? Questo mi pare l'aspetto precedente e mi preoccupa molto di più di quello attuale, anche perché visto lo screening preventivo a cui saranno sottoposti tutti coloro che parteciperanno a questa asta da parte della Prefettura, così come lei sta meritoriamente facendo, ci può restare tranquilli su eventuali infiltrazioni sotto questo profilo, ma mi preoccupa molto di più quello che ha fatto la società prima perché 30 milioni nel confronto delle dogane in quanto tempo e per quanto tempo sono state non esigibili da parte delle dogane. Ecco, questo se può chiarirci questi aspetti. Sì, volentieri. I 30 milioni si sono accumulati nell'arco di un anno e mezzo, due anni massimo, quindi in un tempo molto breve. E su questo c'è un'indagine in corso dell'autorità giudiziaria sulla modalità con la quale questa cifra si è accumulata in così breve tempo. Per cui io su questo non so rispondere se non riferendo che anche questo è stato un procedimento anomalo perché un tempo molto breve, la mancata riscossione dei tazzi doganali lascia preludere, così come poi l'autorità giudiziaria ovviamente ha fatto, la possibilità che ci potessero essere delle illicità in questo comportamento, sia da parte della società sia da parte di funzionari della... rispondo in segretando. Grazie. 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 mafiose che erano dentro e lì l'infiltrazione e soprattutto la possibilità, visto che si pagano delle accise sui carburanti, è proprio la possibilità di far uscire dal mercato sottoposto alle accise una quantità di carburante che invece viene poi veicolata nel mercato nero. Quindi l'appetibilità di un'attività del genere, al di là di quello che può essere il costo per il futuro, è proprio poter inserirsi in una distribuzione del mercato nero nella distribuzione dei carburanti. Ecco, questo lo dico per completezza e quindi la sua preoccupazione è fondata per il futuro, perché ci potrebbe essere qualche società che appunto si inserisca in questo settore e che è appetibile per questo motivo che mi risulta personalmente. Grazie. Grazie, volevo aggiungere anche che è una nota di interesse un po' per tutti, credo che il Porto di Trieste opera in regime di Portofranco e quindi ha la possibilità di avvalersi della cosiddetta dogana differita, quindi diciamo il pagamento a 90 giorni dei tassi doganali che rappresentano un ulteriore elemento di vantaggio per gli operatori commerciali e che è quello che ha indotto anche... Giusta l'attenzione, volevo rafforzare, non so quali per prestitare, giusta l'attenzione. Deputata Savino, prego. Grazie Presidente, innanzitutto saluto il prefetto della mia città e colgo l'occasione anche per complimentarmi per il lavoro che sta facendo sul territorio della provincia di Trieste, anche in merito a tutta la questione difficile da gestire della ruota balcanica, quindi le rinnovo i complimenti da parte di tutta la città. Allora, si sono state fatte delle domande che mi hanno preceduto, che erano quelle che un po' volevo fare io. È chiaro che un'impresa che abbia un minimo di cervello, con 30 milioni di euro di debiti e 6 milioni di valore dell'azienda e con il patrimonio completamente da rivedere, insomma c'è qualche cosa che effettivamente forse fa bene il nostro prefetto a preoccuparsi. Quindi chiedevo eventualmente se era possibile, se non sono già agli atti, di avere una perizia di stima di questa azienda. Quindi dalla perizia di stima forse riusciremo a meglio comprendere con quali elementi il curatore ha svolto il suo compito. Questo per quanto riguarda la depositi costieri. Naturalmente, sì, proprio perché a Trieste abbiamo il regime di punto franco, c'è questa maggiore agevolazione sulle differite adoganali, quindi è un elemento che, se vogliamo, ancora più invoglia a trovare spazio all'interno delle dinamiche portuali. Ha sollevato il prefetto la questione che riguarda gli interessi, soprattutto in questo momento particolare, della Cina sul porto di Trieste e compresa anche l'Ungheria, che mi pare un po' una protesi delle volontà cinesi di, in qualche modo, entrare in questo mercato. Quindi chiedo, queste sono preoccupazioni che, per quanto riguarda la parte del mio partito di Forza Italia, noi abbiamo sollevato più e più volte, anche perché vorremmo capire esattamente quali tipo di garanzie ci sono proprio in merito ad eventuali infiltrazioni mafiose che non possono corrispondere esclusivamente a quelle del nostro Paese, ma possono corrispondere anche ad infiltrazioni mafiose cinesi, soprattutto. Quindi all'interno del protocollo che a noi personalmente non è stato dato di discutere, purtroppo, da nessuna parte, vorremmo proprio anche capire se all'interno di questo protocollo sono previsti proprio tutte quelle operazioni, quella possibilità di applicare fino in fondo l'interdittiva antimafia, quindi di avere una capacità di controllo maggiore, proprio perché, ringraziando sicuramente la direzione del porto e gli operatori che in esso vi lavorano, quindi nella possibilità di sviluppo di questo porto, che naturalmente io considero il porto un porto italiano, perché qualcuno dice il porto di Trieste, è un porto di interesse nazionale, quindi non può che portare beneficio a tutto il territorio nazionale, però non vorrei che questo beneficio poi fosse a discapito anche di qualcosa forse di poco chiaro nell'aprire le porte a investitori di un certo tipo, senza appunto alcun tipo di garanzia. Grazie. Grazie, deputato Savino. Prego, prefetto. Sì, brevemente io ho dato un ringrazio dei complimenti. Ho appena consegnato anche la perizia di stima che ho scaricato e stampato, quindi la lascio, però è consultabile sul sito del Tribunale di Trieste, previa rilascio di alcune credenziali per poter accedervi. Poi per quanto riguarda la presenza cinese e il protocollo, io mi riservo di far avere anche copia del protocollo d'intesa di cui abbiamo parlato, che è stato firmato il 5 luglio. Credo che rappresenti lo strumento attraverso il quale le pubbliche autorità, il prefetto, lo Stato può monitorare eventualmente la presenza di soggetti cinesi o non cinesi che dovessero interessarsi alle attività del porto. Al momento mi sembra che da un punto di vista formale ed ufficiale non si registri la presenza di cinesi, della società che è stata fra l'altro appositamente anche costituita proprio per realizzare la cosiddetta via della seta a Trieste, ciò non di meno penso che non si possa neanche dall'altra parte escludere che vi possono essere anche altre forme attraverso le quali questa presenza si può manifestare, cioè in via indiretta e non diretta. Proveremo a essere attenti a far sì che se è un'attività di tipo perfettamente legale benvengano, penso, a nome del Paese aperto ovviamente a tutte quelle che sono le forme di arricchimento, di valorizzazione del porto. Dall'altra parte manovre tipo queste o di altro tipo invece sicuramente sono da stigmatizzare, da eliminare, da allontanare. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Possiamo ritenere l'audizione conclusa. Grazie a tutti.